Il Festival del Teatro Dialettale di Agugliano in provincia di Ancona, con la sua decima edizione, si può annoverare tra gli appuntamenti di qualità del panorama culturale marchigiano. Insieme ad altri festival storici dialettali della regione, è sicuramente un riferimento nella cultura popolare del linguaggio antropologico. Il festival, la Guglia d'Oro, che si svolgerà dal 18 al 25 luglio e vedrà vicendarsi sul palco sette compagnie provenienti dalle Marche da tutta Italia, è organizzato dall'Associazione La Guglia, che da anni promuove e valorizza la tradizione popolare nelle sue varie forme espressive, come ci racconta Carla Mezzelani, più nota e conosciuta come Mara, dell'Associazione La Guglia. Noi siamo attivi da circa dieci anni, le attività che la Guglia fa si esplicano in varie iniziative che vanno da premi, come il premio di poesia, il premio di narrativa, un premio di narrativa sia per ragazzi che per adulti. Sono sia in lingua che in dialetto, però in particolare ci teniamo a valorizzare il dialetto come nel Festival Nazionale del Teatro Dialettale. Come è nata questa volontà di valorizzare la forma dialettale? Io sono entrata in questa associazione circa 5-6 anni fa, però ritengo, io come insegnante ma anche come cittadina del nostro territorio. Ritengo che il dialetto sia un valore che fa parte della nostra cultura, della nostra tradizione, soprattutto fa parte del nostro passato, ma un passato di valori e quindi non dobbiamo dimenticarlo. Però trasformandolo in teatro comico, il dialettale viene sicuramente tramandato in maniera più simpatica, quindi forse si apprende meglio rispetto a una commedia drammatica magari. Il Festival non è solo comico però, per esempio le opere di Eduardo De Filippo sono anche talvolta drammatiche, però è chiaro che la comicità è una maniera di arrivare più direttamente al pubblico. Nella serata in anteprima sono state presentate tutte e sette le compagnie in cartellone ed è stata l'occasione per riempire la piazza cittadina. Il Festival dialettale rappresenta per la città di Agugliano il fiore all'occhiello della stagione estiva, come sottolinea il sindaco Thomas Braconi. Siamo alla decima edizione del festival che ormai è una portata nazionale, quindi le compagnie vengono da tutta Italia, così come c'è un grande afflusso di pubblico poi durante la settimana, la prossima settimana quella a venire, ed è un momento di cultura molto importante al cui teniamo molto, che l'associazione Aguglia porta avanti con entusiasmo e con passione noi come amministrazione sosteniamo. È una settimana appunto dedicata alla cultura, dedicata in questo caso al dialetto, ma le attività economiche, attività produttive sono in qualche maniera tutte collegate insieme al festival, in cui appunto come ho detto teniamo molto, teniamo in particolar modo. I suoi cittadini rispondono sempre copiosamente? Sì, rispondono sempre molto bene, tutte le serate sono sempre piene, come quella di stasera che nonostante è un'anteprima del festival, anche stasera sembra tutto esaurito. In Italia, ma soprattutto nelle Marche, sono numerose le associazioni teatrali e per l'occasione quindi non poteva mancare il presidente regionale della UILT, l'Unione Italiana del Libero Teatro, Quinto Romagnoli. Nella regione Marche ce ne abbiamo più di 60 e tutte le compagnie sono molto attente ai festival che si svolgono, in particolare poiché il 70% delle compagnie fa teatro dialettale e molto attente a tutti i bandi che escono e questo festival è uno di quelli con più attenzione proprio perché ha già una bella storia, raccoglie le migliori compagnie a livello nazionale di teatro dialettale e quindi è diventato sicuramente un festival prestigioso a cui partecipare sicuramente è un onore per tutte le compagnie. La Guglia avrà portato i suoi frutti. Quante delle compagnie che fanno parte della sua unione sono venute stasera o nelle edizioni precedenti? Qui ce ne sono tre che partecipano a livello nazionale e comunque ogni anno queste cose si rinnovano poi siccome la giuria giustamente sceglie per motivi artistici, prettamente artistici può essere che un anno ce ne sono di più, un anno ce ne sono di meno ma lì sono i valori artistici che normalmente fanno scattare il lago della bilancia da una parte o dall'altra. Comunque ripeto, le 800 compagnie che la WIT c'è in tutta Italia, come ho detto prima, la maggior parte fa teatro dialettale e molte di queste fanno domanda ad Agugliano perché vedo che vengono da Vicenza, vengono da Napoli, da Grosseto, quindi da diverse parti d'Italia oltre a quelle marchigiane perché le Marche, una regione così piccola che un milione e 800 mila abitanti ha 150 compagnie amatoriane, quindi una cosa straordinaria. Ospite d'eccezione dell'anteprima del festival, un comico professore, o professore comico che dir si voglia Rodolfo Bersaglia, che nella vita insegna storia dell'arte al liceo scientifico dell'Istituto Savoia Benincasa ed è un grande studioso e ricercatore del repertorio marchigiano che nella serata si è esibito raccontando in chiave ironica l'origine del dialetto anconetano. Io faccio ricerca sul repertorio della provincia e della regione in ambito storico-artistico e poi ho avuto questa folgorazione, essendo anconetano, mi sono accorto che c'erano delle anomalie, delle tipicità, dei modi di dire ma anche dei modi di comportarsi dall'anconetano e quindi io quasi per gioco ho preso un brogliaccio d'appunti e ho incominciato ad annotare i modi di dire ma non semplicemente elencandoli ma contestualizzandoli nei loro significati e anche in che modo questi modi di dire portavano degli atteggiamenti e quindi è venuto fuori questo saggio che è un saggio praticamente, noi stasera siamo qua nel contesto della presentazione di gruppi teatrali dialettali quando Ancona Horror è in realtà una satira abbastanza pungente sui modi di dire ma anche di comportarsi dell'anconetà allora torna nel gruppo e deve in qualche modo proclamare questa conquista allora c'è una frase poeticissima che recita così l'ho tacata ante il muro visto che lei è un profondo conoscitore del dialetto e uno studioso e continuamente alla ricerca perché spesso e volentieri le marche vengono sempre identificate con un altro genere di dialetto? che differenza c'è tra i vari? io ho spesso lavorato fuori dalla provincia Milano e loro identificano il nostro modus dicendi dialettale con una formula di fonazione e di dialetto che ha misto tra Fabriano e Macerata noi non possiamo dimenticare Nino Manfredi che interpreta un operaio dalla cartiera che comprende le marche essere più espressive, più dinamiche linguisticamente in quella area del crinale preappenninico e cioè tra Fabriano e Macerata oltretutto Ancona non ha rivendicato una sua letteraria identità questo è importantissimo io per esempio stasera sentivo esprimersi gruppi dialettali che ruotano attorno ad Ancona e che hanno una specificità minimamente dal punto di vista linguistico lontana ad Ancona ma una drammaturgia o una comediografia completamente diversa da quella anconetana io vorrei tornare invece al festival di Agugliano un festival che ha dieci anni e quindi in dieci anni sta crescendo tanto e raccoglie tantissime compagnie sono onorato di essere stato invitato qua da Balercia per dare questo contributo e non do un contributo diciamo così quietante su Ancona ma do proprio un'interpretazione del capoluogo che è un capoluogo meravigliosamente ancora una volta tragicomico cioè un capoluogo pieno di modi estremamente poetici straordinariamente dimenticati questa sera al festival che cosa proporrà? stasera propongo uno spettacolo che si chiama Ancona Horror getta lo scompiglio perché gli anconetani ridono a crepa pelle di se stessi quindi dei loro modi di dire, fare, baciare lettere a testamento e quindi l'anconetano ama tantissimo perché ama e odia il modo in cui si comporta l'anconetano è pieno di passio, di fogo però questo fogo e questa passio cova dentro proprio come la miscela alchemica non esplode mai in nessun modo, non dà atto a nulla